Prima di cominciare lascia un like, iscriviti e attiva la campanella Vi ricordo che potete supportarmi nello shop di Fortnite inserendo il mio codice creatore TNTBARNEY per i vostri futuri acquisti Che dire Mi sento elegante Sembra assurdo, mi sembra assurdo ma ho dovuto prendere con un corpo Ecco, ora sono morto C'è le di giamperine? Si Anzi devo andare via assolutamente Bella la botte Bella sta giamperina, si No Però ma c'è la sfida per diolare? No Così per... E' per non andare a sabbia Bo Mi è lefto alle parole di bocca Niente No no per non andare a sabbia però per prenderlo un posto e mai si fai da ma per non andare a sabbia non c'è gente d'altra parte a apoli c'è la visione moni però è vero è vero mamma mia e colpi dove vanno posso fare il giro da dietro sì 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 no 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 c'erano accanto a me dov'è? è da te matti? mi stanno spammando in 2.000 uno questo viene rotto come un culo ragazzo è one hit questo cuocco peroncino oh 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 che botta! l'abbiamo rotto bimbi sto tornando via da voi lo fa averlo rotto non me la sento di morire ok grande grande matti l'abbiamo scappato anche lui morto? no non è morto subito c'è uno lì no ma a terra push eh ok anch'io dai dai vai sulla casa sulla casa ok ma ragazzi non è possibile che il suo colpo passa al muro e il mio no non è possibile gioca con zero di fing morto vieni bravo va è morto dai non sapevo c'era lo spas c'era lo spas per tutti eh praticamente più spas per tutti gente davanti questa no andiamo in safe le facciamo da sopra ecco magari qua 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 sennò non li vediamo più poi 50 50 eh blu 20 blu ok uno è sopra già 45 oh 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 calma 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 addio calma occhio agli altri che escono dalla safe cazzo però la safe è lontanissima eh non c'è una terra e bolloro bravo oh oh cos'era una ballerina no ragazzi non ho materiali zero zero materiali eh scopi a problem ah ho preso i suoi aiuto dov'è qui da me mi rompe morta 27 blu c'è gente c'è gente ancora adios adesso dobbiamo andare via assolutamente eh mi devo curarlo sentite sì ti sentiamo ok ok c'è questo qua che è mortissimo però è anche bravo eh occhio bravo 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 cazzo dove c'è il fight eh no forse vi è un violento oddio dovessandola apprende è un po' fuori safe forse anche ma è lì sotto, no 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 come c'è finito lì merda no ma ti dobbiamo correre insieme mi sembra assurdo mi sembra assurdo ma ho dovuto prendere con un corpo ecco, però sono morto c'ho le di giamperine ma ti devo andare via assolutamente bella la botte bella sta giamperina, si non ce la fai? non l'ha fatto a zipline dobbiamo, ah aspetta però non ce la so dire merda 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 è un botte, è un botte 870 abbiamo ma davanti a voi stanno andando in safe oh va, si boh è sta radio di merda aspetta perché è un casino dobbiamo dobbiamo capire cosa fare ok allora posti per curarsi non ce ne sono posti per restare non ce ne sono posti per lutare non ce ne sono possiamo solo formare roccia per legno cioè, non no, se possiamo farlo allora lì c'è dei poteri dove? ok oddio cazzo, si devono a prendere il casino partita vinta con quelli ragazzi eh non li fai andare a prendere l'oretto, l'oretto, puoi andarci con la giamperina si che stanno fai dando allora a posti io ci andrei con la giamperina e poi con quelle lì poi cioè vai veloce ti vuoi velocissimo che sarebbero anche delle cure di vita in effetti l'oretto ora o mai più vai, vado eh corri, 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 ti tappo da qui bello meglio le giamperi che te lo fa magari c'è qualche materiale anche c'ho gli scudini c'ho gli scudini con quei troiai riesci a correre veloci cioè se li spanni lo so, lo so, lo so vado a prendere gli scudini e vengo questi forzetti è anche troppo golosi eh vai per sicurezza tante volte mi prendevo danno da caduta vieni, vieni, vieni vai, siamo 2 contro 2 eh, non vanno tutti no cioè questo albero di me è assolutamente va benissimo siamo 2 contro 1 2 contro 1 madonna, c'hai Wolverine dov'è? è giù sotto, è là giù sotto dietro l'albero, Lorea ragazzi, ricordatevi che Iron Man c'ha un 4 blocchi di profondità ok cazzo cazzo è? eccolo lì, ho visto? qua è? sento è morto, è morto, è morto volverino grandi gg gg non so come abbiamo fatto a vincere questa partita ma bellissimo guarda, bimbi, stacco perché tanto costello, orario, sennò la mamma si incazza grande, bella partita vincere, 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 6 kg grazie a tutti